Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa un grande ringraziamento ad Ignazio, nuovo abbonato alle mie video lezioni che trovate tutte fin dalla prima qui sul canale. Ieri al Grand Swiss 2021 è stato giorno di riposo, quindi oggi vi voglio proporre un'altra spettacolare partita di Mikhail Tal. Siamo nel 1957, l'anno nel quale Tal ha vinto il suo primo campionato sovietico ed è anche diventato grande maestro. Nel mese di luglio si trova Reykjavik per giocare il mondiale studenti a squadre. Stiamo per guardare insieme la partita del settimo turno che lo vede affrontare il danese Bent Larsen, uno dei giocatori più completi della storia degli scacchi. Partiamo! Mikhail Tal di bianco apre la partita con E4, Larsen risponde con la siciliana, C5. Cavallo in F3, D6, naturalmente Tal va sulla siciliana aperta, la spinta in D4, C per D4, il cavallo ricattura, cavallo in F6 sviluppa, attacca il pedone, il bianco gioca cavallo in C3, Larsen con A6 entra nella siciliana Neidorf. Allora Tal continua con alfiere in G5, E6 in questa mossa classica, attenzione adesso il cavallo inchiodato, Mikhail Tal spinge in F4. Ora bisogna stare attentissimi a questa spinta E5, una spinta che però va ancora preparata bene. Che succede in questa posizione? Se il nero continua con donna in B6, entriamo nella famosissima e tagliente variante del pedone avvelenato, Bent Larsen invece propone la poco giocata alfiere in D7. A cosa serve questa alfiere in D7? Serve a sviluppare il cavallo in C6 senza problemi di sciupare la struttura pedonale. Oppure non di sciupare, ma lui vuole, naturalmente, lui il nero per il contrattacco sul lato di donna, vuole poter spingere in B5. Allora Tal continua con donna in F3. Questa mossa, vedete, fa vedere che il bianco vuole arroccare lungo. Ritorniamo indietro di una mossa e andiamo a vedere come mai ancora non funziona questa spinta N5. Perché questa spinta N5, naturalmente non giocata da Tal, dopo D per E5 ed F per E5, sembra vincere un pezzo, perché il pedone sta attaccando un pezzo inchiodato sulla donna. Ma se la donna si porta in A5, guardate che succede, in caso di cattura, il nero si riprende il pezzo, si tiene anche la coppia degli alfieri. Quindi c'è sicuramente un vantaggio strategico per il nero. Allora ritorniamo a noi, per questo motivo Tal continua con donna in F3. Bent Larsen continua con il suo piano di sviluppo. Cavallo in C6, attenzione che il cavallo in D4 è sospeso. Con arrocco lungo si fanno due cose buone in una, si mette il re al sicuro, la torre difende il cavallo. Allora cavallo per cavallo, la torre ricattura e noi sappiamo bene che le torri in mezzo alla scacchiera a inizio della partita non ci stanno benissimo. Arriva anche alfieri in C6. Ora, peggio di prima il pedone proprio non si può muovere perché è inchiodato sulla donna. Allora Tal continua con lo sviluppo, alfieri in E2, stessa idea alfieri in E7 perché naturalmente il nero anche lui vuole arroccare, però naturalmente il nero arroccherà corto. Allora, raddoppio dei pezzi pesanti di Tal sulla colonna D, tutte mosse logiche. Di nuovo non si può giocare E5 perché il pedone è inchiodato e però, comunque, se la donna si sposta in G3, allora E5 arriverà di sicuro, anche il nero deve stare attento a questa idea. Cosa fa Bent Larsen? Schioda il pedone, donna in A5, toglie oltretutto la donna dalla pericolosissima colonna D dove ci sono le torri di Tal. Stessa idea di Tal, schioda il pedone con donna in E3. Allora arriva H6, l'alfiere sotto attacco si porta in A4 e guardate un po', è Larsen che spinge per primo al centro. Ottima mossa E5, F per E5, il pedone D ricattura, la torre sotto attacco si deve spostare in D3. Allora il nero ha il tempo per giocare a rocco corto, Bent Larsen ha giocato un'ottima apertura. Cosa fa il buon Tal? Re in B1, questa la solita utilissima mossa di attesa. Allora, con torre in F che va in D8, Bent Larsen prepara il contraattacco, ma pensate, in questa posizione dove sì, c'è della tensione tra i pezzi, ma che sembra ancora innocua, nella mente di Tal inizia a formarsi l'idea di una trappola incredibile. Per questo motivo cambia l'alfiere sul cavallo, in modo tale che adesso può giocare il cavallo in D5, che naturalmente andrebbe a sciupare completamente la struttura del nero, e qui non si vuole giustamente cambiare perché sennò il bianco si porta in vantaggio, allora l'alfiere si sposta in G5. Ottenuto si sposta con tempo perché attacca la donna. La donna di Tal si sposta in F3. Pensate, siamo al momento critico della partita, perché sembra che il bianco si stia preparando sicuramente ad un attacco sul lato di Re, e quale manovra ci viene in mente per prima? Probabilmente G3, e poi la spinta H4. Allora Larsen prepara il suo contraattacco sul lato di donna, porta la seconda torre in C8, cadendo nella trappola che Tal aveva attentamente preparato. Siamo infatti arrivati al nostro quizzone, in cosa consiste questa trappola? Qual è la mossa da giocare? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita perché ci insegnano gli esperti, giustamente, di stare attenti a non spingere i pedoni di fronte al Re, quelli del castello, ma Michael Tal sa perfettamente quando si possono spostare. Arriva B4, guardate il cavallo a cosa serviva a chiudere la via di uscita della donna, incredibilmente, alla mossa 21, la donna di Larsen è intrappolata. Non si può infatti giocare donna in B5, non giocata da Larsen, perché arriva torre in A3, attacco di scoperta, e la donna è sicuramente persa. Allora Larsen sposta la donna in A4, di nuovo arriva torre in A3. Allora cosa fa il nero? Qui cerca di limitare i danni, torre per cavallo, attenzione, si può subito catturare la donna, ma c'è qualcosa di meglio, infatti, con pazienza, con sangue freddo Tal prende la torre, non si può catturare il pedone, guardate che succede, dopo donna cattura in B4 con scacco, è vero che il nero salva la donna, ma perde il tempo, perché torre in B3 che attacca la donna, costringe la donna a spostarsi, il bianco si riprende il pezzo e rimane con una torre piena di vantaggio, quindi per questo motivo Larsen non la gioca, gioca E4, attacca la donna di Tal, la donna deve mantenere la protezione della torre, donna in C3. Pezzo sotto attacco, pure inchiodato sulla torre sospesa, alfiere in F6, quindi attacca la donna, adesso arriva la semplificazione finale, torre per donna, alfiere per donna, il pedone C si riprende il pezzo e di nuovo mica il Tal rimane con una torre di vantaggio e naturalmente il grande danese abbandona. Incredibile questa trappola, questi piani di Tal, un po' tutta scacchiera, sembrava che il pericolo fosse sudato il re, ma il pezzo sul bordo, in questo caso la donna, ha richiamato subito l'attenzione di Tal. Io spero che questa breve partita vi sia piaciuta, speriamo poi di continuare a vedere delle partite stupende al Gran Swiss che sta entrando nel vivo. Se la partita vi è piaciuta non scordate il like, non scordate di iscrivervi al canale e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie!